Dopo essere stato condannato dal Tribunale di Parma per non aver custodito correttamente un'arma, si è rivolto alla Cassazione che gli ha dato torto. La sanzione per un 52enne di nazionalità italiana denunciato a Busseto nel dicembre del 2016 era abbastanza esigua, un'ammenda di appena 500 euro, ma l'uomo ha preferito perseguire fino all'ultimo grado di giudizio. Il 52enne, a suo tempo denunciato dai carabinieri della cittadina verdiana, era stato condannato lo scorso febbraio, dopo che i militari avevano controllato la sua auto mentre era parcheggiata. L'uomo contestava la condanna ritenendo che la sentenza non fosse argomentata a sufficienza. La Cassazione l'ha confermata non dichiarando ammissibile il ricorso ed ha disposto che l'interessato versi alzi 3.000 euro nella cassa delle ammende.